Buongiorno e benvenuti a tutti al XVI Convegno Nazionale, il processo diagnostico nell'infanzia. Mi dispiace non essere fisicamente tra di voi, ma sono particolarmente contento di poter in ogni caso prendere parte a questo importante convegno, convegno che so aver avuto grande successo e i lavori di questo convegno costituiranno sicuramente una base importante e un contributo significativo alle tematiche che in esso sono contenute. La divulgazione di questo convegno è nazionale e quindi mi fa particolarmente piacere poter raggiungere tutti voi. Il pediatra guardiano dello sviluppo del bambino. Guardiano forse è un termine riduttivo, ma che ci aiuta a comprendere quanto sia importante il ruolo del pediatra. Il pediatra in realtà entra nella vita dei bambini già al momento della nascita, quindi in sala parto, quando il bambino nasce, quindi già c'è un contatto con il bambino e con i genitori e questo contatto che nasce dall'inizio della vita prosegue poi per tutta quella che è l'età evolutiva e noi pediatrici stiamo battendo da tempo perché tutta l'età evolutiva, quindi fino al compimento della maggiore età del diciottesimo anno di età, sia considerata. Perché? Perché vedremo brevemente durante questo intervento che ogni età ha delle peculiarità che richiedono delle competenze che il pediatra proprio per formazione ha. Il ruolo del pediatra ha acquisito negli ultimi anni ulteriore importanza e consistenza proprio perché se fino a qualche anno fa noi avevamo delle certezze che erano rappresentate ad esempio dalla genetica, quindi tutto era segnato sui cromosomi, ma in realtà come materiale genetico i cromosomi rappresentano il 3%, tutto il resto era considerato DNA spazzatura. Con il nuovo concetto dell'epigenetica si è arrivati a comprendere che quel 97% in realtà contiene, e lo stiamo dicendo in maniera molto semplice e divulgativa, attivatori e inibitori. Cosa significa questo? Che al di oltre la genetica l'ambiente gioca un ruolo importantissimo e il pediatra in questo senso può svolgere un ruolo molto importante che va dall'educare i genitori e quindi sarebbe auspicabile un contatto con i genitori già addirittura da prima che il bambino nascesse e poi durante tutte le fasi della vita. Quindi agire su quelli che sono gli stili di vita e i comportamenti è di un'apportanza fondamentale e costituisce l'elemento discriminante per favorire una crescita sana e quindi la salute psicofisica del bambino. Quali sono le tappe? Le possiamo schematizzare in maniera molto semplice per quanto riguarda lo sviluppo neuroevolutivo e patrimonio consolidato di ogni pediatra che un bambino debba rispettare alcune tappe per quanto riguarda lo sviluppo neuroevolutivo e le schematizziamo in maniera molto semplice nel fatto che un bambino a tre mesi deve essere in grado di reggere il capo, a circa sei mesi deve essere in grado di restare seduto e quindi mantenere la posizione seduta e intorno ai 12 mesi iniziare a muovere i primi passi. Dai 12 mesi talvolta anche prima iniziare con il linguaggio. In tutte queste fasi i controlli che vengono effettuati dal pediatra che ricordiamo deve fare dei bilanci di salute cosiddetti ogni mese nei primi sei mesi, poi ogni due mesi dal sesto al dodicesimo mese e per questo il pediatra è guardiano di quella che è la situazione perché deve verificare che tutte queste tappe vengano rispettate ovviamente tenendo conto di quelle che sono le caratteristiche del bambino, di quella che è la storia familiare, però chiaramente questo consente al pediatra di intercettare molto precocemente eventuali situazioni meritevoli di attenzione. Per quanto riguarda gli sviluppi successivi quindi nel bambino in età prescolare anche qui i controlli che il pediatra effettua sono diradati e i controlli vanno fatti indipendentemente dalle condizioni di salute del bambino, quindi anche il bambino che sta perfettamente bene, che non presenta patologie deve essere periodicamente valutato, quindi anche nell'età prescolare l'acquisizione di corretti comportamenti, del linguaggio, del verificare le interazioni, del verificare anche la motricità fine, quindi l'acquisizione di alcune competenze e appannaggio del pediatra che poi chiaramente dovrà far riferimento laddove trovi delle situazioni che non rispondono a quelli che sono i criteri di normalità in una gaussiana che può essere anche molto ampia, dovrà rivolgersi allo specialista. Ma il pediatra deve anche essere molto attento e presente per quanto riguarda, dicevamo, quelli che sono i normali comportamenti. Pediatria è molto di più che curare le patologie acute o farsi carico di quelle che sono delle situazioni organiche. Il buon pediatra è quello che aiuta la crescita e insieme ai genitori fa sì che un bambino diventi un adulto sano, dal punto di vista fisico ma anche neurocomportamentale. E qui è molto importante quindi cercare di riuscire a inquadrare per tempo quelle che possono essere delle situazioni che, se prese in tempo, se affrontate precocemente, sicuramente possono trovare maggiori soluzioni e maggior aiuto. E in questo il pediatra è sicuramente aiutato dalla famiglia, dalla scuola, sentendo quelli che sono i comportamenti del bambino, ma anche nel verificarli durante la visita, quindi quando il bambino va a studio. Il pediatra, oltretutto, soprattutto il pediatra di famiglia, un altro grande privilegio è di fatto un medico della famiglia, conosce i genitori, ha l'opportunità di entrare nelle case e quindi di verificare veramente nel complesso quella che è la salute psicofisica del bambino. Intercettare per tempo significa identificare il problema e saperlo indirizzare allo specialista e questo è un altro aspetto molto importante. Nella pediatria degli ultimi decenni si sono evidenziate alcune criticità, una è rappresentata dai cosiddetti bambini con necessità assistenziali complesse, che sono per lo più bambini che hanno delle malattie, che colpiscono più organi, che interessano più situazioni e che quindi richiedono necessariamente la presenza del pediatra come case manager, come colui che deve gestire le situazioni, facendo riferimento ai vari specialisti d'organo e questo avviene sia nell'ospedale che nel territorio, ma è sicuramente ben evidente quanto quelle che sono le problematiche neurocomportamentali abbiano acquisito un ruolo molto molto importante e qui il ruolo del pediatra è ancora una volta non solo di guardiano, ma di guardiano critico nel cercare di identificare quelle che sono delle situazioni che possano essere interpretate come l'inizio di qualcosa che merita attenzione rispetto ad altre invece che possono essere gestibili e il bravo pediatra è quello che conosce bene i suoi limiti e il suo ruolo e quindi riesce a far ricorso all'aiuto dello specialista quando questo è necessario e ricordandosi sempre che più è precoce l'intervento e maggiori saranno le possibilità di riuscita. Pediatra guardiano di tutta l'età evolutiva e per questo che è importante il pediatra si batte moltissimo anche per essere il medico non solo fino a 14 ma fino a 18 anni perché proprio nell'età compresa tra i 12 e 18 anni che in realtà c'è un buco assistenziale, un buco sanitario perché di fatto sono individui questi nell'età preadolescenziale che non vengono più visti dal pediatra perché sono fuori dell'età di competenza ma che non vengono visti neanche spesso dal medico dell'adulto e questa fascia d'età non a caso rappresenta poi una vera e propria criticità per quanto riguarda sia i disturbi neuro comportamentali che talvolta anche l'esordio di alcune situazioni patologiche che sono assolutamente meritevoli di interesse e che spesso vengono intercettate tardivamente quando ormai il problema è più che manifesto ed è diventato un problema serio proprio perché non c'è stata la possibilità di monitorizzarlo quindi l'importanza del pediatra nell'età adolescenziale è altrettanto importante ed è proprio una delle fasce d'età in cui si presentano più problemi e quindi è molto importante cercare di mantenere un aggancio con le famiglie e con i pazienti questo in realtà avviene perché molto spesso sono stessi i ragazzi a voler tornare dal pediatra o rivedere il loro pediatra perché è il medico nel quale hanno fiducia pediatra guardiano, guardiano ma ribadisco guardiano è forse un limite nel termino logico perché il pediatra deve essere veramente un medico a 360 gradi ma non solo un medico deve essere, ha un ruolo sicuramente sociale, deve interagire con la famiglia, deve interagire con la scuola, deve interagire con tutti i soggetti che hanno a che fare con il bambino ed è attualmente gravato sicuramente di maggiori responsabilità sia per l'epigenetica quindi per quanto è importante il suo ruolo nel far sì che un bambino diventi un adulto sano ci sono stati in questo senso moltissimi esperimenti, alcuni anche di natura il più famoso è quello della carestia olandese in cui si è visto che in periodi particolari durante l'occupazione tedesca dell'Olanda, durante la seconda guerra mondiale madri che avevano avuto degli apporti nutrizionali molto 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 poveri e bassi hanno poi generato dei bambini che hanno presentato dei problemi seri in edà adulta avanzata quindi ciò che era accaduto durante la gestazione aveva avuto delle ripercussioni nell'uomo nella donna di 50-60 anni. Questo ha conferma del fatto che il pediatra agendo su quelle che sono le abitudini e gli stili di vita può incidere su quella che sarà la salute dell'adulto di domani e questo non solo in senso strettamente fisico ma anche neurocomportamentale concludo ricordando quella che è l'importanza dell'alleanza del pediatra con tutti gli specialisti e di questi tempi probabilmente proprio con coloro che si occupano di patologie complesse e di coloro che si occupano dei problemi neurocomportamentali.